Una denuncia senza mezzi termini e freni, quella del consigliere regionale del PD Pierpaolo Petrucci che questa mattina ha fatto un sit-in dinanzi al reparto di oncologia dell'ospedale San Salvatore per denunciare i gravi problemi del reparto che non ha medici e costringe la gente ad andarsi a curare altrove, parliamo di malati con tumore. Questa volta il bersaglio è l'Università dell'Aquila perché Petrucci ha spiegato che oncologia è universitaria e nonostante gli sforzi dei medici e del personale presente non si riesce a soddisfare la domanda di cure. Per la carenza di medici vengono impiegati generalmente gli specializzanti, fa presente, ma per baghe interne attaccato ad oncologia non vengono inviati e l'Università dimostra disinteresse nel non voler risolvere il problema. La situazione è grave perché qui c'è una responsabilità ben precisa che è dell'Università perché l'oncologia sia quella ospedaliera che quella territoriale è tutta a carattere universitario se l'Università non ce la fa a gestirla perché l'oncologia universitaria territoriale non manda i specializzanti all'oncologia ospedaliera quando c'è una rete formativa, una legge che lo impone, lo dicesse e l'oncologia torna a essere totalmente ospedaliera. Chiaro che è una sconfitta dell'Università ma i cittadini sono totalmente esasperati. Sapete che è una patologia complessa, questa cosa sta gettando nello sconforto tanti pazienti ma i familiari davvero non ne possiamo più. Il consigliere regionale ha affermato a chiare note che questa volta non c'entrano né manager né assessore regionale della sanità ma la responsabilità è completamente in capo all'Ateneo. Se l'Università Tuona non è in grado di gestire un reparto così complesso lo ridì alla ASL. Questa volta non c'è una responsabilità politica dell'assessore Veri, non c'è una responsabilità politica gestionale del management dell'ASL ma è tutta in capo all'Università che deve dire che cosa fare è prendere delle decisioni in tempi strettissimi. Grazie.